Tra cinque giorni via agli europei femminili di pallavolo, ieri il Cittimazzanti ha diramato le convocazioni, dopo De Gennaro e Chirichella resta fuori anche Caterina Bosetti. Forti le reazioni sui social, ma l'allenatore difende le sue scelte. Ci sono tante persone che ho lasciato fuori e che meritano di stare con la maglia della nazionale, perché non c'è solo Monica, ma c'è Cristina, c'è Alessia, c'è Sara, e io non sono quello che decide se le persone sono giuste o sbagliate. Anche se poi quando tu scegli sembra un po' come in politica, no? Sembra sempre una negazione di una persona, ma non è quello che fa l'allenatore della nazionale.